Ed ora cambiamo argomento, è stata ritirata la circolare che avrebbe depotenziato il DURC in provincia di Bolzano. L'ufficio appalti della provincia autonoma di Bolzano a fine dicembre ha diffuso una circolare con la quale si stabiliva che il DURC, il documento unico di regolarità contributiva che devono presentare le aziende, sarebbe stato chiesto solo in occasione della stipula del contratto di appalto e al saldo finale. Per i sal intermedi, stati di avanzamento lavori, sarebbe stata sufficiente un'autocertificazione da parte dell'azienda. I sindacati delle costruzioni hanno duramente contestato la circolare in questione e ne hanno discusso in un incontro con l'assessore Barbara Repetto, competente in materia, che poi più volte in giunta ha sollecitato il ritiro della circolare. Contrario invece l'assessore ai lavori pubblici Florian Mussner. Alla fine però, grazie all'intervento dei sindacati delle costruzioni, prima l'INAIL e poi l'INPS hanno deciso di impugnare dinanzi al TAR la circolare. Un'iniziativa giudiziaria, questa, che ha convinto i responsabili della ripartizione ai lavori pubblici a ritirare la circolare, evitando così una sorta di depotenziamento del DURC.